Il salone sulle fonti rinnovabili e l'efficienza energetica nel Mediterraneo. E' stata inaugurata stamattina la settima edizione della mostra convegno dedicata alla Green Economy, in un momento in cui le istituzioni puntano sulle Smart Cities. Come è evidente anche dall'attenzione posta sull'area dedicata all'evento Smart City Med, creata da Comune di Napoli, Forum PA e Denea per le esperienze territoriali all'avanguardia in tema di vivibilità delle città attraverso tecnologie innovative delle telecomunicazioni. Puntiamo tantissimo sulla città sostenibile, la città smart. Anche in questi giorni stiamo per depositare i nostri progetti al governo per il POM Metro, i 100 milioni di euro destinati alla città e alle città del sud, che si aggiungono ai fondi strutturali. Quindi Napoli si candida sempre di più a essere una città smart, una città ecosostenibile, una città che vuole puntare anche sulle biciclette elettriche, sulle macchine elettriche, tutto ciò che è compatibile con l'ambiente. Basta discariche, basta inceneritori, rifiuti zero, acqua pubblica. Un percorso difficile in un momento di crisi, ma che ha un grande significato politico. È intervenuto anche il Ministro dell'Ambiente Galletti per aprire una rassegna che vede tre aree espositive, incentrate sull'efficienza energetica, sulla mobilità sostenibile e sul riciclo. Ed ancora, il Salone della responsabilità sociale condivisa è quello del packaging sostenibile ed il primo meeting italiano del progetto europeo sull'energia solare. 10.000 metri quadrati per il principale appuntamento dell'energia pulita nel mezzogiorno e dell'intera area del Mediterraneo. Sempre più stand, operatori, vestitori da tutto il mondo. Quindi Napoli, città strategica del Mediterraneo, città che ha sposato la ecosostenibilità, che è una smart city, lo vuole essere sempre di più. Ci vogliamo far trovare pronti all'altezza, curiosi di imparare, ma decisi ad andare in una strada di grande cambiamento dal punto di vista del rispetto della natura, dell'ambiente, del clima, della terra. Grazie.